Vuoi un regalo? Ti faccio un regalo? Un foglio di carta e 50 metri? Anna! Il regalo è buona la cena. Cosa ti piacerebbe? Una cosa che ti piacerebbe? 10 sacchi di torba. Eh? La terra, la terra, la vuoi? Ma basta questa terra, non voglio 10 quintali di terra. Questa qua è del Mr. Green, c'è un ognomo sulla confezione. Ah, voglio l'ognomo. Va bene. Acquista. Quante so? 20 litri. Di gnomo. Terra? No, di gnomo. Ma come fai se è a litri, non è a chili? È un ognomo, è liquido. Ma cos'è un ognomo? Un ognomo, un ognomo liquido. Cos'è un ognomo? Aspetta che devo recuperare il tuo indirizzo, un attimo. Aspetta. Non bantarmi 10 litri di ognomo. Di gnomo, di gnomo, di gnomo. Cos'è un ognomo? 10 litri di gnomo ti sto inviando. Cos'è? Sto comprando, ho fatto l'ordine. Acquista. Cos'è ognomo? Fatto. Arriverà tra il 28 luglio e il primo agosto. Questo gnomo liquido. E' un bel regalo. Non è che puzza. No, lo so. No. Sto cercando cos'è. No, non lo trovi se cerchi gnomo liquido. No, cos'hai di impreso, Laio? Cos'hai di impreso? Lo farò vedere in live. Ma tu non potrai vedere. Non devi guardare. Oh! Voglio vederlo! Ma poi non posso farlo vedere perché, vabbè, vabbè, vabbè. Non è che mi hai preso una roba illegale. No! Non guardare, chiudi gli occhi. Non è una roba molesta. No. Guarda che se lo apre qualcuno così a casa, c'è un casino. No. Non hai guardato, vero? No, mi hai fatto vedere l'ognomo liquido. Sì. Me lo descrivi? È un sacco. No, no, laio. Mi hai preso la terra. Alex, ho comprato 20 litri di terra. Non l'ho preso. Guarda che è utile. Io non te le doi le idee. Ci fai qualcosa. Ci riempi la terra. Pensa al corriere come sarà girato di coglioni che ti deve portare 20 litri di terra. Povero corriere. Ma c'è io che non sento il campanello. No, te lo devi prendere. È buono. Questo qui. Cosa me ne faccio? Ti leggo che fa. Allora, questa qui non è terra normale. È torba acida biologica. Ti spiego. Questa torba di sfango tedesca è ottima. In orticultura è giardinaggio. Hai capito? Puoi giardinare da qualche parte. Dai, ottima. Se l'hai pagata più di 3 euro. L'ho pagata 9 euro. È buono. E' un buon prezzo. È vantaggioso. È una torba di sfagno che rimane più acida e quindi indicata per piante acidofile. Ok, a sto punto mi prendi anche delle coltivazioni così invece la pianto? Ok, che seme... Qual è una pianta acidofila? Un cactus. Pianta acidofila. Vediamo che... Un cactus non è acido. O una roba che non mi rompe la casa, possibilmente. Allora, aspetta che mo ti dico subito qual è una pianta che ti va bene. Ti va bene la azalè? Cosa cazzo era questo rumore? Bim bim. Cos'era? Oh, non è che... Lion. Oh, senti da dio, Lion. Che fatto? Lion. Non lo so. Oh. Lion. Ehi. Mi sentite? E cosa stava per succedere? Non lo so cos'era quel rumore. Hai premuto qualche tasto esplosivo? Ma eravate voi. No. Era un bim bim di un telefono. Io il mio non ce l'ho. Ma tu hai aperto lo stesso link che ho aperto io. Era il bim bim della chat. Ma che sta a dire? Te lo giuro. Vabbè, Cico, ti va bene i sementi da fiore di azalea, Godezia? L'azalea Godezia piacerà molto a mia mamma. Perfetto. Grazie mille. E il vaso ce l'hai? Certo che no. Dai, non hai un vaso a casa. Dai, però, dai, devi trovare un vaso. Un vaso me lo posso craftare, capito? Le pianti per terra. Gli fai un buco, ci metti la terra, la torba, ci doffila. Ehi, scavo il cebelto. Non è che dopo fa qualcosa di male alla tua erba. Ehi, ma sì che ce l'ho, sì che ce l'ho. Tanto giardino, molto giardino. Perfetto, perfetto. Guarda che... E se faccio morire le azalee Godose? Come si chiamano? No, intanto sono i semi. Al massimo non crescono. E no, è così, però sono deluso. Vabbè, magari crescono. Cioè, devi vedere le cose nel modo peggiore possibile. Ma cos'è un'azalea? È un bel fiore rosa. È un fiore, è un bel fiore. Forse c'è anche di altri colori, non lo so. Ci sono di tutti i colori. Quanto è la festa della mamma? L'8 maggio? Me lo conservo. No, no, no. È un sacco da 20 litri di gnomo liquido. Secondo me si vede. Dove lo metti? Scusa, non è che... No, me lo metto in camera, dai. Non puoi mica entrare così in camera. Potrebbe sfare. Ma guarda che nella terra ci sono esseri viventi. Potrebbe germogliare. No, 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 no. Buongiorno.